Prove tecniche di successo, questa non è soltanto una inaugurazione ma è il taglio del nastro per un nuovo inizio, per un futuro diverso. Sì, un nuovo inizio è un obiettivo che abbiamo raggiunto, il primo obiettivo che si è prefissato a ShipLab dalla data di nascita, quindi due anni e due mesi fa, ottobre 2014, l'abbiamo raggiunto. L'abbiamo raggiunto con entusiasmo, con tanto duro lavoro, impegnando, investendo sia il nostro tempo che il nostro denaro e siamo veramente orgogliosi di questo. Quali sono i prossimi obiettivi? Adesso rendere operativa questa sede? L'obiettivo è rendere operativa e ci siamo, ci siamo arrivati, ma l'obiettivo è anche farla diventare un centro di networking, una palestra per talenti e un luogo veramente dove poter sviluppare competenze. Le idee qui trovano casa? Sì, esattamente, proprio perché questa non sarà solo la nostra sede dell'associazione ShipLab, ma in realtà è una sede aperta a tutti, al pubblico e a tutti quei soggetti che hanno voglia di creare imprese, di svolgere la propria professione, di avere uno spazio fisico a disposizione e soprattutto di mettere in condivisione appunto il sapere, il saper fare e dare modo appunto di creare quell'humus utile per creare nuove attività culturali, economiche e che diano veramente sviluppo al nostro territorio. L'azienda Amaru ha sempre dimostrato di credere nei giovani, oggi più che mai concretamente mettendo proprio a disposizione un immobile, che è il primo elemento per poter cominciare a discutere di concretizzazione delle idee? Beh, diciamo che ho accolto, anzi la famiglia Amaru ha accolto questo grido che loro in maniera silente mi hanno confessato in una riunione in azienda e dopo una breve riflessione li ho portati in questo immobile chiuso da otto anni perché non lo utilizziamo e quindi vediamo di questo immobile trasformarlo così come gli dicevo in una fucina delle idee. Abbiamo bisogno che le eccellenze di questo territorio non vadano fuori a fare esperienza o meglio andavano fuori a trasferirsi, invece qui dobbiamo cercare di creare quel piccolo laboratorio che permette a questi giovani di esprimersi e di poter attraverso anche una rete molto fitta, anche quella confindustriale, di poter fare delle attività che sono afferenti all'esigenza delle imprese moderne.